Salve a tutti, oggi ci occupiamo di una nuova conica, l'ellisse. Ricordatevi che le coniche si chiamano così perché derivano dalla sezione di un cono con un piano. E potete facilmente immaginare che si tratta di una sezione con un piano che non è perpendicolare all'asse del cono, ma non è neanche tanto inclinato da avere come intersezione una parabola o un iperbole. La circonferenza può essere considerata come un caso limite dell'ellisse quando la sezione è perpendicolare all'asse del cono. Allora, se vogliamo avere un'immagine intuitiva dell'ellisse come luogo geometrico dei punti del piano che gode di una particolare proprietà, pensiamo di fare questo piccolo esperimento in campagna. Adesso non si può andare, però prima o poi ci potrete andare. Dobbiamo avere a disposizione tre picchetti e una corda che non si possa allungare, cioè di lunghezza fissa. Piantiamo due picchetti e colleghiamo i due capi della corda a questi picchetti piantati per terra. Con l'altro picchetto invece teniamo tesa la corda e giriamo intorno ai due picchetti fissi. Quello che avremo, la curva che avremo disegnato, sarà un'ellisse. Questa operazione pratica traduce la definizione di ellisse, che è il luogo geometrico dei punti del piano, tali che la somma delle loro distanze da due punti fissi, che sono chiamati fuochi, è costante. Quindi la lunghezza della corda, che rimane sempre uguale, infatti abbiamo messo l'ipotesi che la corda non si possa allungare, materializza questa distanza, insomma, delle distanze fissa. Allora, detto questo, dobbiamo adesso scrivere l'equazione. Per scrivere l'equazione, però, collocheremo i due punti fissi, cioè i fuochi, in una ben particolare posizione nel sistema di riferimento. Con ciò, diciamo, operiamo in un modo un pochino diverso rispetto alla circonferenza, laddove la circonferenza non aveva una, diciamo, non abbiamo scritto l'equazione vincolando la posizione del centro in un particolare modo. Qui, invece, dobbiamo fissare i due fuochi in modo che essi siano collocati sull'asse X e siano equidistanti dall'origine, quindi l'origine sia il punto medio del segmento F1, primo fuoco, F2. Vedremo poi come, con un piccolo, diciamo, con un prezzo molto piccolo da pagare in termini di complessità, potremo anche posizionare i fuochi sull'asse Y, sempre a cavallo dell'origine. E poi vedremo anche come si possa scrivere in maniera abbastanza semplice l'equazione di un'ellisse traslata rispetto a quest'ellisse scritta in forma canonica. Però andiamo per gradi e occupiamoci di scrivere l'equazione dell'ellisse con i fuochi in questa posizione. Allora, prendiamo un punto P e scriviamo la condizione che abbiamo detto, cioè che la somma delle distanze dai fuochi F1 e F2 sia costante. Allora, fissiamo un po' i parametri. Quindi, il punto F1 abbia coordinate meno C0 e il punto F2 abbia coordinate C0. Il punto XY, ovviamente, è il punto P, cioè con le variabili XY, le coordinate correnti. Noi dobbiamo tradurre questa condizione, e cioè, Allora, cominciamo P F1 più P F2 uguale, attenzione, alla lunghezza della corda che noi chiamiamo 2A. È comodo chiamarla 2A e non semplicemente A, perché questo ci permette di arrivare a una formulazione più semplice dell'equazione. Allora, traduciamo questa condizione e quindi scriveremo X più C al quadrato, stiamo facendo la distanza P F1, più Y meno 0, quindi semplicemente Y al quadrato, più poi la radice quadrata di X meno C, quest'altro punto qui, sempre più Y al quadrato, perché il punto sta solo a sé, X uguale 2A. E abbiamo semplicemente tradotto, esplicitato questa condizione. Adesso, purtroppo, dobbiamo svolgere un po' di passaggi per rendere più, diciamo, semplice questa condizione, che sarebbe già quella che noi vogliamo, ma che non è assolutamente gestibile in maniera semplice. Allora, abbiamo due radici, quindi ci toccherà fare due volte il quadrato di entrambi i membri. Quindi cominciamo col portare questa radice a destra e col fare il quadrato di entrambi i membri. Io lo faccio in un passaggio solo. Quindi qui sparisce semplicemente la radice. Qui abbiamo un binomio, perché questo quando passa di qua diventa meno radice e quindi dobbiamo fare il quadrato del binomio. 4A al quadrato più il quadrato della radice, quindi X meno C al quadrato più Y al quadrato e poi avremo, gioco forza, il doppio prodotto meno 4A, due volte questo termine, per la radice di X meno C al quadrato più Y al quadrato. Adesso, prima di quadrare una seconda volta, cerchiamo di semplificare e quindi, innanzitutto, cominciamo con eliminare il termine Y al quadrato che compare in entrambi i membri e col fare poi il quadrato dei due binomi che compaiono. Quindi avremo X quadrato più C quadrato più 2CX uguale 4A al quadrato più X quadrato più C quadrato meno 2CX meno 4A radice di X meno C alla seconda più Y alla seconda. Qui scompare un bel po' di roba, X al quadrato e C al quadrato e 2CX meno 2CX, una volta portato questo termine nel primo membro, diventerà 4CX. Naturalmente porteremo anche questo 4A al quadrato di qua perché dobbiamo avere soltanto la radice confinata in un membro. Allora, siccome qui abbiamo il meno, ci conviene fare, diciamo, questa operazione. Questa radice la portiamo di qui così diventa positiva e questi vengono di qua. Quindi abbiamo 4A radice di X meno C alla seconda più Y alla seconda. Di qua poi abbiamo 4A al quadrato meno 4CX. Togliamo il 4 che compare in tutti i termini, dopodiché facciamo il quadrato di entrambi i membri. Avremo A al quadrato per X meno C alla seconda più Y alla seconda. E di qua avremo il quadrato di questo binomio e cioè A alla quarta più C al quadrato X al quadrato meno 2A al quadrato CX. Non ci resta qui che fare il quadrato cioè il quadrato di questo binomio e poi moltiplicare per A al quadrato facciamo queste altre operazioni. A al quadrato, qui abbiamo X al quadrato più C al quadrato meno 2CX più Y al quadrato e qui abbiamo A alla quarta più C al quadrato X al quadrato meno 2A al quadrato CX. Moltiplichiamo A al quadrato C al quadrato meno 2A al quadrato CX più A al quadrato Y al quadrato A alla quarta più C al quadrato X al quadrato meno 2A al quadrato CX. allora adesso semplifichiamo questi due termini e scriviamo tutti i termini con la x e la y nel primo membro e invece i termini di grado 0 rispetto a x e y nel secondo membro quindi qui abbiamo al quadrato x al quadrato poi abbiamo meno c al quadrato x al quadrato poi abbiamo al quadrato y al quadrato e da questa parte invece avremo a alla quarta più al quadrato c al quadrato a questo punto raccogliamo la x al quadrato qui quindi abbiamo al quadrato meno c al quadrato x al quadrato meno c al quadrato x al quadrato più a y al quadrato qui raccogliamo al quadrato questo in realtà è la meno quindi meno c al quadrato Adesso poniamo al quadrato meno c al quadrato uguale b al quadrato e quindi avremo b al quadrato x al quadrato più al quadrato y al quadrato al quadrato b al quadrato. Dividiamo tutto per al quadrato b al quadrato, quindi al quadrato b al quadrato sia qua che qui e otteniamo infine x al quadrato fratto al quadrato più y al quadrato fratto b al quadrato uguale a 1 ed è l'equazione della nostra ellisse. Allora, studieremo nella prossima lezione le proprietà di questa curva così come si possono evidenziare da questa equazione, però cominciamo con l'osservare la prima e poi ci fermiamo, e cioè che in questa equazione compare la x alla seconda e la y alla seconda. Questo significa che la curva è doppiamente simmetrica, cioè simmetrica sia rispetto all'asse x che rispetto all'asse y. Infatti, ponendo qualunque punto di coordinate x con 1, y con 1 e meno x con 1, y con 1, avremo che questi due punti soddisfano entrambe l'equazione, cioè sia ponendo la x che la meno x, il punto e l'ascissa opposta, avremo che comunque il punto corrisponderà alla stessa y. Quindi ciò significa che la curva è simmetrica rispetto all'asse delle ordinate. Analogamente, ponendo le coordinate x con 1, y con 1 e x con 1 meno y con 1, anche questi due punti verificheranno l'equazione. Quindi con la stessa x con 1 possiamo avere la y con 1 e la meno y con 1, il che significa che la curva è simmetrica rispetto all'asse delle ascisse. Infatti, se andiamo a disegnare per bene questa curva, noi avremo una curva di questo genere, che è dotata appunto di questa doppia simmetria rispetto all'asse x e all'asse y.